Ti voglio fare un'altra considerazione. Io mi sono preso un appunto qua, scusa se lo leggo perché... Allora, 2016-2017 è stato il primo anno di Gasperini all'Atalanta dove lui arriva dopo un inizio un attimo turbolento, ma lui subito arriva e fa la quarta piazza, giusto arriva a quarta. L'anno prima, ricordo, arrivò tredicesima all'Atalanta, quindi c'è un bel cazzo di differenza di quello che è stato fatto. Ecco, lui arriva quarto e si prende la Champions League. Il crossover che ora ti fa... No, l'Europa League, non avevamo ancora quattro posti in Champions. Sì, ok, l'Europa League... La Champions League è arrivata due anni dopo. Ok, ok, non aveva fatto il preliminare col Dortmund, perso? Secondo me però il primo anno avevamo solo tre posti in Champions e ne siamo arrivati quarti. Ok. È quella storia del ranking, adesso non vorrei confondermi, però... Vabbè, comunque, comunque era una nota di estrema novità per l'Atalanta e in quell'Atalanta c'è Sartori, direttore sportivo. Allora io sono andato un attimo a tirare giù il mercato che quell'Atalanta ho fatto in entrata e anche in uscita, nel senso che in uscita ha venduto due pezzi grossi, che erano bastoni, che poi in realtà non aveva mai giocato con l'Atalanta, era un buonissimo prospetto, ma di fatto era come se avessero venduto un primavera, e Andrea Conti, che quello invece era un bel pezzo, che fu venduto al Milan. E sappiamo tutti tra l'altro che fine ha fatto. Invece acquistarlo, te ne dico spassi, Pessina a un milione, Cornelius a tre milioni e mezzo, Gossens a un milione, Illicis a sei milioni e mezzo, Derona a quindici milioni, Palomina a quattro milioni, Castagna a sei milioni e Beriscia a cinque milioni. Ti ho detto quelli più eclatanti, quelli che sono costanti di più. Segno che Sartori ha fatto un mercato molto profondo. Allora io ti chiedo, conoscendo Sartori, probabilmente più di noi qua a Bologna, che cosa ti aspetti da lui e che tipo di acquisti ci dobbiamo aspettare per il Bologna in Champions League? Attenzione. Allora, secondo me lui andrà a fare il grosso del mercato ancora lassù, perché la sua base sono il Belgio, l'Olanda, dove compri obiettivamente a cifre abbastanza contenute e riesce a tirar fuori giocatori che vengono anche a poco perché vogliono il trampolino, però intanto magari due anni ti stanno, poi vedi come va. Tutti quelli che hai citato sono venuti come trampolino, poi se la squadra cresce di valore e cresce di competizioni non hanno ragione di andare via, cioè non è che... E mi aspetto magari anche un colpo o due... Così da... Cominicis. Cominicis. E sì, l'annata qualcosa, andrà a pescare qualcosa... Cioè, ora te la butto lì tanto per... Sì. Un Berardi di turno. Bravo. Un giocatore che magari è andato nella fase calante, che i big non lo comprano più... Che in realtà non è calante, Sartori lo sai, lo va a prendere. È uno di quei nomi che Sartori ha una cifra sostenibile, può dire, sai una cosa, se ci gira bene recuperiamo tutta la baracca, se ci gira male il rischio porta capita. Per me è un paio di colpe, perché comunque con Ilicic fece così alla fine. Eh no, perché... Tu hai detto bene, all'epoca l'Atalanta comunque andò a giocare all'Europa lì, qui si parla di Champions League, insomma qualcosa di importante... Un paio di giocatori con un po' di esperienza, di cazzimma, così devi andare a recuperarli. Eh cazzo, sei d'accordo con me. Anche il difensore di 32 anni... Cioè noi abbiamo preso adesso, abbiamo preso Colasinac l'anno scorso dall'Olympique. Tanta roba è stata. Trentenne, trentunenne, ce lo davano a parametro zero. Ma è stata una mano dal cielo, eh. Duco Ones così in difesa, cioè una roba... Ma ricordami un paio di... Coop Maness lo comprò Sartori, giusto? Sì, 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 assolutamente. Però Luckman l'ha comprato Conjerton? Conjerton, conjerton, sì. Conjerton. Ok, ma tu... Ti voglio far chiedere questa cosa qui. Secondo te, fosse rimasto Sartori e quindi Conjerton non fosse arrivato, l'Atalanta avrebbe fatto quello che ha fatto poi dopo o dici di no? No. Per me... Posso chiederti perché? Perché secondo me l'equilibrio tra l'Atalanta e Sartori finisce nel momento in cui l'Atalanta non ha più bisogno di giovani linfe per mantenere la baracca, ma ha bisogno di linfe d'esperienza o comunque di un livello superiore per starci. Perché se tu continui a barcollare tra il settimo e il quarto posto ogni volta ma non fai mai gradini in più e dopo un po' il gioco non vale più la candela. È come le squadre che stanno sempre a mezza classifica. Tre, quattro anni poi vanno giù perché non... E quindi te ci stai dicendo tacitamente che a Sartori manca questo passaggio? Non lo so, lui ha un'altra visione... Forse non ha l'esperienza... Non lo so, ma secondo me è proprio una questione anche di modalità di dirigenza. Magari poi ai tempi nessuno gli ha mai detto vai a prendere Scamacca, vai a prendere The Kettler. Però perdonami, adesso io faccio la mia ricostruzione, e sembra che la dirigenza dell'Atalanta questo l'abbia fatto capire Gasperini. Senza Gasperini per Cassi forse non ci avrebbe neanche pensato. No, 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 per carità è quello. E questo, sei d'accordo. Cioè Gasperini è una certa, ha mosso l'esigenza di avere dei giocatori... E mi sottolinei, perché poi adesso capisci il crossover che voglio fare. È Gasperini che forse quando si parlava entrò in contrasto con Sartori e forse si sono divorziati per Cassi scegliendo Gasperini e mandando via Sartori perché Gasperini e Sartori erano in contrasto con questa modalità di pensiero. Sì, a una certa Gasperini... Il problema è stato che Gasperini aveva avuto un periodo con Ilicic, Zapata e Papu Gomez. Perso Ilicic, perso Papu Gomez, tu quella qualità lì non puoi rimpiazzarla con un giovane talentuoso. Cioè, non tutti e due, quantomeno... Si era abituato bene Gasperini. Cioè, a un certo punto, per competere a determinati livelli, almeno un giocatore di un certo livello, abbiamo sculato tantissimo Lukman. Beh, insomma, diamo merito a Conjerton. È costato poco. Diamo merito a Conjerton che magari... Esattamente, perché è costato poco, ma è quel giocatore che appena ha toccato un pallone. Io mi ricordo... Si è capito? Cioè, non ha avuto bisogno del periodo di ambientamento di qual... Cioè... Il Premier League era malvisto all'epoca perché faceva degli errori incredibili, mi ricordo. non era il giocatore che oggi si vede essere diventato all'Atalanta. Ma non c'era neanche la parvenza che potessi diventarlo. E qui diamo merito a Gasperini. No, di Lukman, dici? Eh? Di chi stai parlando? Non ho sentito. Di Lukman. Ah, sì, sì, sì. No, l'avevano fatto girare per mezzo Europa. Sì, sì. Ma qui diamo merito a Gasperini, così come bisogna dare merito a Tiago Motta per aver vitalizzato dei giocatori che non ti saresti mai neanche aspettato. E io ti chiedo, secondo te, Tiago Motta, in questo... non so se lo sai, ma te lo dico io. Magari lo sai. Lo sai che Tiago Motta si fosse già entrato in contrasto con Sartori? Allora io mi chiedo e ti chiedo, è probabile che Tiago Motta magari talmente veloce di pensiero fosse già arrivato al punto dove era arrivato Gasperini dopo anni? Cioè nel senso di chiedere quello step ulteriore alla dirigenza, la dirigenza però avendo preso da poco Sartori e soprattutto avendo fatto quello che ha fatto Sartori in un anno e mezzo che te l'ha ribaltata in positivo, saputo non se la si è sentita, di dare carta bianca a Tiago Motta diciamo andando contro quello che poi ti dice il tuo dirigente di punta. Ci potrebbe essere una... Ma ti dico... Guardando un po' come si comporta Tiago Motta secondo me sì perché effettivamente lui è un po' paraculo. Cioè lui dice non voglio avere una squadra che in Champions fa fatica perché mi si macchia il curriculum. Però giustamente secondo me il Bologna fa bene. Cioè ci vogliono due o tre anni per costruire una squadra da Champions ma dalla A alla Z cioè non puoi fare comprare le figurine perché se tu adesso devi trattarle in 4-4-8 compri le figurine e compri gente di 34 anni. Quindi te ci stai suggerendo che Bologna perde molto senza Motta ma anche Tiago Motta forse ha fatto il passo più lungo dalla gamba. Per me sì. Non considerando degli step. Per me sì. Per me sì. Quindi ha cercato... Vai in altri contesti dove non contano solo le vittorie conta anche come ti comporti lui ha un caratterino tutto suo perché un conto magari è un conto magari è dire qualcosa a Ferguson un conto e dirla a uno che prende 12 milioni a Stavoli. Però guarda tu sai quanto io sono severo certe volte o quanto lo sono stato in passato comunque continuo ad esserlo sotto certi punti di vista però tu sai anche quanto io in realtà sia stato affino a Tiago Motta io l'abbia amato e continuerò come ho detto ad amarlo perché io ci vedo lui veramente io dico l'allenatore per me Otis è un grande allenatore e quindi ai grandi allenatori come dissi anche di Gasperini ai grandi allenatori si può anche concedere quella velata antipatia di una dichiarazione fuori posto. Assolutamente sì non devono essermi simpatici e poi comunque a me interessa quello che ci mette e poi Tiago Motta a me era anche simpatico per dire come mi è simpatico Gasperini che è il più stantipatico quindi vabbè detto questo detto questo io ti chiedo visto che qua siamo bramosi di sapere quale possa essere il futuro anche l'allenatore del Bologna secondo te Sartori su chi andrà perché si parla di italiano si parla adesso di Tudor che sembra essere già in diatriba con Lottito si parla di Sarri si parla di Pioli secondo te farà che scelta farà ecco prenderà uno di esperienza per la Coppa prenderà uno giovane come si è abituato dici un po' non lo so perché la scelta secondo me più logica sarebbe Sarri perché comunque ora Sarri per motivazioni sue può allenare solo alla Fiorentina o a Bologna non può vabbè perché non si vuole allontanare ha problemi a casa e questo lo so per certo quindi sarebbe un uomo di valore il problema è che Sarri secondo me è un po' alla fine della sua storia nel senso che non è un grande innovatore di calcio per le sue posizioni può starci nell'ottica di dire non voglio fare la cappellata di prendere qualcuno non pronto mi prendo Sarri magari due anni da anni non me ne fa di certo e intanto incomincio a puntellare se però leggo che l'idea è italiano comprendo che le visioni sono altre ti dico allora a me l'italiano non piace come allenatore però è innegabile che ha portato un cesso a pedali tre volte in finale poi bisogna essere schietti prendere i gol che secondo me sono ridicoli che hanno in attacco i conè in balinzola non segnano manco con le mani questi manco con le mani quando noi in finale di Coppa Italia avevamo perso una zero per gol dell'Eurogold di Mandragora ho detto a tutti state tranquilli perché o fanno un altro Eurogold o questi manco con le mani la buttano no ma anch'io ero certo che l'Atalanta avrebbe vinto e quindi è un allenatore che qualcosa ottiene e comunque uno tra questi due quindi non dici che non tira fuori la sartoriata magari ti va a prendere qualcosa non c'è tanta roba in giro secondo me di particolare perché cioè alla fine oggi i due nomi più così un po' più in hype sono Italiano e Palladino infatti Palladino tra i due personalmente scelgo Italiano che almeno mi ha dimostrato qualcosa Palladino obiettivamente ha fatto quanto dodicesimo col Monza va bene sarebbe un tanto nel vuoto cioè perché poi bisogna anche vedere c'è dodicesimo col Monza ok non fa come Juric che a metà campionato smette di allenare sta di fatto che sei arrivato dodicesimo cioè per carità ragazzi cioè ha centrato sempre le cup è arrivato in finale Pioli come lo vedresti sarebbe anche lui un buonissimo buonissimo allenatore perché posso darti una mia velocissima disamina quello che tu hai detto prima su Sari che dici che lo vedi un po' a fine carie io sono d'accordo perché un po' faccio un parallelo che da un certo punto non ci sta a dire niente ma fa capire mentalmente ti ricordi anni fa Mazzari come era considerato era molto in voga lui Mazzari ha smesso di aggiornarsi perché si vede che le vicissitudini l'hanno portato così io vedo Sari un uomo che fino a 5-6 anni fa era lì che studiava adesso mi sembra che abbia tirato più lì mi imbarca e si stia diventando come un Mazzari e quindi lo vedo uno non più a passo coi tempi paradossalmente invece Pioli ha fatto il contrario Pioli ha continuato ad aggiornarsi e ora Pioli secondo me sta vivendo forse addirittura il suo fiora rocchiello di carriera innegabile ma Pioli è un signor allenatore per chiunque secondo me perché poi è vero che magari in un top club ti serve altro ma comunque Pioli ha portato uno scudetto al Milan ha fatto un scudetto inimmaginabile nel senso non è un allenatore su cui muoverei mai Pioli che prendeva sei reti cinque reti dall'Atalanta ci ricordiamolo non muoverei mai un'obiezione su uno come Pioli francamente mai di dove è Pioli? Pioli è di Parma penso è comunque Emiliano Emiliano sicuro potrebbe essere una bella storia anche quella da raccontare secondo me fossi io ci penserei appunto adesso il vantaggio di quegli allenatori lì è che hanno la rubrica del telefonino piena di nomi quindi quello che non verrebbe mai ma che viene chiamato e gli dica ascolta vieni che se poi non funziona ti sistemo di nuovo non ti sono cose che il lice ci è venuto perché c'è la Gasperini è fermato lì è conosciuto a Palermo se non sbaglio apro una parentesi perché a me piace aprire parentesi lo sai è presente Tiago Motta quando chiama Selemakers Tiago Motta che praticamente uno pensa agenda vuota avendo incominciato ad allenare ieri l'altro eppure il grande allenatore qual è e anche giocatore fa sì che lui avesse già dei contatti e oh alza la cornetta e ti convince Selemakers dal Milan a sposare il progetto Bologna questa è lunga serve anche quello questa è lunga da un amico che ti va a prendere Yen serve anche quello è certo a proposito di Ilicic ti è ti è andato un po' il pensiero dopo Dublino lui oppure no molto 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 anche perché poi c'è stata una bella carrellata sui social di tutti i nostri ex che erano tutti a vedere la partita Ilicic Papu Muriel ah che bello sì 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 comunque tutti a postare commenti no io ogni ogni volta che vedo Ilicic quando l'ho visto di recente tornare a Bergamo infatti Gasperini aveva chiesto che per la festa ci fossero tutti quelli di questi otto anni o che comunque l'invito fosse steso perché è proprio un percorso e beh certo e la festa quando è? quando ci sarà? domani c'è il Pullman che gira in città e ci saranno che tu sappia? non lo sappiamo può essere magari che vengano l'ultima di campionato o magari quest'estate non lo so però insomma tutte le volte che si sono presentati Gasperini li ha sempre fatto fare il giro di campo anche a Ilici c'ha il papo ed è da lì che secondo me si apprezza l'uomo Gasperini perché da tutti viene sempre dipinto come un brutto anche sui giornali dopo l'intervista i vari castagni e quant'altro che ne raccontano l'hanno raccontato come se fosse uno della Gestapo ma in realtà secondo me proprio dalla gestione Ilici c'è in realtà che capisci quanto Gasperini invece si dia per i suoi ragazzi ovviamente quelli che gli danno è ovvio che quelli che non ti danno li vuole via come chiunque vorrebbe e secondo me Gasperini è veramente una persona da un punto di vista umano fantastica non so se secondo me lui ha quella capacità di farti percepire che stai investendo su di te e quindi responsabilizzi un giocatore che magari sarebbe mediocre a dare il 100% guarda vi faccio un esempio facciamo tutta la l'Europa League con musso in porta non perché ma perché non sono riusciti a venderlo carne secca il portiere titolare e non è giusto tenere un portiere come Musso in panchina arrivi alla finale chiunque si sarebbe rimandato la promessa e avrebbe messo carne secca perché se perdi per una papera di musso sei in cima alle dolomiti no lui ha mantenuto queste qua sono anche dimostrazioni ai giocatori di un orgoglio di una capacità anche di mettersi a rischio sì 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 ho capito benissimo perché questa capacità di mettersi a rischio l'ha avuta Tiago Motta nella gestione a Bologna perché ha fatto delle scelte durante l'anno impensabili anche di formazione per cercare di tenere tutti vivi e questa è anche la capacità e il vedere oltre secondo me di due grandi vati calcistici Gasperini e Tiago Motta che sicuramente per quanto noi siamo addolorati qua a Bologna adesso gli stiamo augurando ogni male personalmente no e sono convinto che farà una carriera d'allenatore forse anche superiore a quella del calciatore perché magari sono allebiato io non lo so io ho visto un grande allenatore poche poche palle lei è un gran allenatore staremo staremo a vedere cosa ti aspetti dall'Atalanta il prossimo anno Otis ma grosso modo mi aspetto quello che è stato quest'anno comunque di consolidarci in Champions quindi arrivare ancora nelle prime 4-5 comunque essere lì fino all'ultimo e magari avere meno momenti morti cioè una decina un 10 12 punti in più ok e ti aspetti di alzare trofei con tutti quelli che il prossimo anno potete dare qualcosa sì adesso obiettivamente la condenball club challenge contro il chito almeno quella dici secondo me quella ora io magari poi quelli del chito sono dei fenomeni incredibili la squadra d'Equadoregna giusto peruviana peruviana adesso la supercoppa europea è un po' produttiva però sai magari la giocano il 15 agosto il Real Madrid il turno tutti stanchi per la cupa america e l'europea ma poi non l'hai mica detto magari incontrate il Dortmund è vero per carità per carità esatto magari però ecco io mi aspetto di vedere di arrivare alla fine dell'anno e aver visto un'Atalanta migliore di quella dell'anno precedente e sicuramente sarà così vedi e qua ovviamente siamo in chiusura tu hai questa sensazione che è poi una solida realtà perché sei già che è frutto poi di un percorso e così inevitabilmente sarà poi certo si possono anche sbagliare delle opzioni delle scelte per cui magari non andrà come uno ci sia ma sai che l'impegno ci sarà adesso staremo a vedere qua invece da quest'altra sponda una volta che Tiago Motta se n'è andato che cosa ne sarà di noi perché qua invece c'è un grande punto interrogativo che speriamo sia colmato dalla gestione di Sartori noi ci aggrappiamo a questo uomo sperando che ma io starei tranquillo secondo me comunque Bologna anche come città ha dato una risposta tale per cui nessuno avrebbe mai minimamente il coraggio di non rispondere alle attese della piazza e della gente capito cioè comunque poi quando perché poi si innesca un meccanismo un po' strano che tutti parlano di Bologna ma non parlano più solo della squadra ti fanno i filmati della città una roba e capisci che diventa tutto un giro e sulla squadra poi diventa la vetrina non che Bologna abbia bisogno per carità però diventa un po' la vetrina di tutto e quindi la dirigenza secondo me si trova anche un po' in carica e a dover mantenere e a dover mantenere perché per esempio a Bergamo è successo anche quello c'è un certo punto tu hai il mondo il paese che vengono a Bergamo fanno l'intervista non menta resta lo sindaco ci sono delle aspettative delle attese il fuoco degli animi dei tifosi casalinghi che spingono la società a cercare di rilanciare ogni anno speriamo che saputo insieme a Sartori riescano a fare un altro passo in avanti e sono chiamati quest'estate secondo me al doppio se non triplo lavoro per riuscirci bene carissimo io che dire io ti ringrazio per queste chiacchiere che sono state veramente secondo me molto erudite e ci riaggiorniamo nel prossimissimo futuro quando vuoi Alampo se ce l'hai un nome che ancora non è uscito che tu sai che arriverà all'Atalanta quale giocatore che non è ancora uscito l'è uscito secondo me l'Atalanta sta sondando Bongar Ciccio come cacchio si chiama nel Lecce ah davvero il difensore il difensore perché Lecce non riesce a pagare i piccoli e allora bel difensore alto che mena come un fabbro e dici che fa a caso vostro classico delinquente classico delinquente di periferia che per noi è proprio l'ideale perfetto da avere con questa notte su pongra ci si direi di chiuderla che è fantastica ti si ringrazia carissimi ottici grazie a voi e ci sentiamo alle prossime chiacchiere da barri ovviamente carissimi iscrizione condivisione pollice sempre alto andate ovviamente a trovare il buon Otis Otis 1907 su youtube e direttori di atalantini punto com comunque troverete tutte le info red box commenti e ora nuovamente un saluto e ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar moshorbuli un saluto